Cosa è la crepettura di Canna? Cosa c'è la crepettura che funziona da ecosostenibile? Sì, a lungo andare sì. Questo sistema di costruzione è antico e moderno allo stesso tempo. Tutti questi architetti si occupano di biodiversità. Non c'è altro che ripercorre le strade. Ovviamente con le tecniche dei materiali. Ma il bello di questa cosa non è più una cosa che usa e getta. È una cosa che si vede bene un'altra volta. E la parola è fatta sempre. È una roba di generazioni. che si è godente di questa tipologia di costruzione. Voi altri fesi? Bofida, Salda Canna e Tattirascosa? Sì, sono i gruppi di costruzione, le spetture, le barracche di Sant'Antonio. Probabilmente i gruppi di costruzione è uno dei sistemi costruttivi più antichi. che sono conosciuti. Questo è una testimonianza di questo tipo di materiale usato. Questo è quello di recuperare tutto il gruppo possibile. È immaginabile e di contagiare i posteri.